Buongiorno a tutti! Benvenuti nella mia cucina! Oggi faremo dei muffin twist, dei muffin arrotolati con un ripieno di Nutella, però li faremo con una pasta lievitata ed useremo il nostro lievito madre. Adesso iniziamo ad imbastare. 500 g di farina, 200 g di lievito madre rinfrescato e raddoppiato, 270 ml di latte tiepido, 80 g di zucchero, un uovo. Iniziamo ad imbastare. Una bustina di vanillina, 70 g di burro. L'impasto è incordato. Adesso lasciatelo lievitare fino al raddoppio, in un luogo caldo. Guardate, l'impasto voleva scappare. Che forza che ha questo lievito! Ascendete l'impasto in un rettangolo. Farcite metà l'impasto con della Nutella. Ripieghiamo l'impasto. Adesso tagliate l'impasto in tante strisce. Arrotolate ogni striscia su se stessa. Ecco qui. E mettete nello stampo da muffin solamente imburrato. Una volta che avrete riempito tutta la teglia, coprite con pellicola e lasciateli evitare fino al raddoppio. Ora non ci resta che aspettare il raddoppio. Infornate 180 gradi forno statico per circa 30 minuti. Grazie a tutti.